Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei Two Times Nerd, io sono Fedro e oggi siamo qui per un piccolo video aggiornamento riguardo le novità del canale. Purtroppo la prima notizia che devo darvi non è troppo bella e spero non mi odierete. Questa settimana però Dragon Quest XI si prende una pausa. Questo perché nei giorni precedenti sono stato influenzato, ho avuto un mal di stomaco terribile e febbre molto alta. Quindi per cui non sono riuscito a registrare gli episodi. Anche Cosmos non sono riuscito a vederlo, quindi anche Xenoblade Chronicles 2 questa settimana rimarrà fermo. Vi chiedo davvero scusa a tutti quanti, lo so che adesso starete dicendo Ah Fedro ci hai tradito, ci disiscriviamo. Vi prometto però che dal 12 novembre, lunedì 12 novembre, la pubblicazione riprenderà il suo regolare corso. Ci sarà solo una piccola variazione nell'orario di pubblicazione di video di Dragon Quest che verrà spostato dalle 12 alle 19. Questo per fare in modo che io riesca a gestirmi un po' meglio l'editing. Questa settimana comunque non rimarrete senza contenuti. Ho già in mente di portarvi due video. Uno che darà inizio al nuovo format chiamato Two Times Back e di cui non vi svelo nulla. Provate a scrivere nei commenti, dite la vostra cosa è secondo voi, cosa potrebbe essere. E l'altro invece sarà una discussione su Dragon Quest 11 insieme ad un amico. Un video che potranno vedere le persone che hanno finito il gioco e in cui potremo discutere di un po' di cose insieme. Altra cosa, ci scusiamo con tutti coloro a cui avevamo detto che saremmo stati presenti a Lucca, ma purtroppo non siamo riusciti a presenziare la fiera per la mia malattia. Quindi la colpa è mia e basta. Cosmos non c'entra nulla, lui era carichissimo per venire, ma all'ultimo ho dovuto dirgli di no perché ero a letto morto. Ad ogni modo, scusate davvero, scusate tantissimo, mi dispiace un sacco dover posticipare certe pubblicazioni. Vedremo di fare in modo che non capiti più una cosa del genere. Continuate a seguirci, dite come sempre la vostra nei commenti. Lasciate un like se volete, ma penso che il video lo cancellerò. Vediamo e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti per la comprensione. Buona serata.